Siamo di nuovo nei video dove devo fare il mio petto neon, stavolta il nostro è preadolescente e nonno nato. E allora, siamo qui proprio perché dobbiamo fare una bella doccia come potete vedere. Quindi adesso noi andiamo a tenere il personaggio e gli faccio fare una bella doccia infrescante così si riprende per fare questo video. Perché dobbiamo fare tutte le missioni che vuole e allora ragazzi noi dobbiamo... In questo momento vuole fare la doccia, ovviamente io gliela faccio fare. Se vuole fare una doccia io gliela faccio fare, che domande! Intanto l'unica cosa che dovete fare per avere la mia amicizia è mi chiamo da Safirelle e scrivere nei commenti il vostro nome e io ve le accetterò. Ovviamente non le posso accettare tutte se siete in tanti, questo è ovvio. Diamo la doccia al gattino così sale di un chicco e non è più creato una scelta appena iniziato. E niente, che vi devo dire? Allora ragazzi il mio pet durante la richiesta dell'unicizia di avventuriera mi ha dato un... mi ha chiesto di dormire. Magari il mio petto mi segue, non si addormenta per strada, io posso parlare. Allora, facciamo un bene cattino e magari facciamolo andare al campeggio. No, aspettiamo una visione che vi viene perchè il campo è in centro. Oppure abbiamo nel tempo per andare al campeggio, chi lo sa, adesso vediamo. Abbiamo se... il tempo l'abbiamo se in questo momento mi troverò al centro. Ovviamente tolgo il pet e poi lo rimetto perchè sennò qui siamo morti. Aspettate che devo dire che sto registrando in un petto. Allora ragazzi, siamo arrivati in campeggio e... niente. Ovviamente ogni volta che vado al campeggio, che mi costa tanto andare al campeggio perchè è lontano da casa il campeggio. Deve anche farsi una doccia, quindi facciamo fare una bella doccia mentre lo facciamo stare in campeggio. Si deve anche andare al salone, è così giusto per tanto che io non ci metto niente. A fare tutto, deve finire. Se sentite dei rumori è che sono entrati i miei amici a casa. Finisce la missione quanto ci vuole. Allora... Ragazzi... Allora... Sto facendo fare la missione di... Della salone. Poi lo faccio andare in ospedale e lo faccio bere. Perchè? Eh no! Non posso fare la televisione così. Ehm... 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 Metto qua? Ehm... Metto qua? No! Mi manca il ruolo, raga! Mi devo... Devo... Lo devo per forza... Ehm! Bi bababalu può Bi bababalu può Bababu Ecco, guardate quanto sono bella. chi è correttona io mi dissocio solo questo ok ragazzi adesso ha tanta sete e devo andare in ospedale finesso lo faccio andare in ospedale poi lo faccio bere dato che il mio petto me lo chiede già da tanto di bere da quando l'ho fatto andare in campeggio quindi adesso lo farò anche andare in ospedale perché ha bisogno di andare in ospedale allora dov'è l'ospedale ecco l'ospedale andiamo in ospedale ovviamente il mio petto non sa nuotare però non possiamo andare al fiume solo per questo ui non sta saltando ok ho fatto fare un saltino almeno non non mi non dice che non sa è una mia tortura quando devo andare ragazzi eccoci qua siamo in ospedale stiamo portando il nostro petto che me l'ha chiesto poi dopo lo facciamo bere perché poverino mi ha chiesto da bere già da un bel po' l'ho già detto però non me ne frega lo vi dico allora esatto facciamo così è malato quindi adesso lo curiamo e dopo gli diamo anche da bere vediamo da bere sono sì che porta bene bravo e facciamolo bene che non beveva da tanto quindi adesso lo prendo è quasi adolescente quindi ragazzi aspetto la missione allora andiamo a notare il nostro petto ragazzi cercherò di violarmi l'avatar in altri video di adottami ma per adesso mi piace così me lo tengo così magari cambierò magari cambierò ragazzi dopo vedo degli outfit da mettermi perché il mio avatar mi piace veramente tanto guardate che carino non so se cambiare la faccia o i vestiti i capelli li lascio quelli perché mi piacciono mi manca mi manca l'ultima missione per fare per farlo adolescente poi ci sarà post adolescente e poi la fine quindi adesso andiamo a scuola magari per passare nel tempo li facciamo fare nuove azioni magari andiamo su giocattoli oppure compriamo qualche giocattolo dato che ho 2490 euro non lo so che faccio qua lo compro anche se ora ha bisogno di una missione qua compro un oggetto che non so se costerà tanto e poi andiamo a fargli la doccia e finisco il video ragazzi cosa compro cosa compro e no 1300 troppo il rambino 2000 euro ma manco morto il pallazzino sempre non è tanto quindi adesso lo prendo e lo metto di un colore rosa ecco fatto l'ho comprato ragazzi me lo segno nel me lo segnerò nel adesso me lo segno nel calendario che ho aspettate ragazzi che me lo segno ok segnato ok segnato ragazzi ora possiamo andare a fargli fare la doccia poi farlo giocare magari se riesco metto il pianoforte in casa mia perché così gioca senza dover per forza andare al barco giochi e perdere tanto tempo adesso lo faccio andare proprio il pianoforte lo faccio andare ha bisogno di una doccia e deve bere quindi adesso andiamo ragazzi se volete incontrarmi ragazzi se volete incontrarmi l'ho già detto in questo video e se volete incontrarmi il mio nome è Sofie Real basta taggarmi la vostra amicizia e se riuscirò ve le accetterò se sarete in tanti vabbè avete capito comunque questa missione poi è fatto questo e dopo andiamo lo facciamo bene e mettiamo il coso poi finisce il video facciamolo bene facciamolo bene facciamolo bene facciamolo bene perché il mio pet deve giocarci così almeno non si annoia allora sto ballando lo sto lasso ok poi chiuderò il video perché dura troppo se no dura troppo 10 minuti per me è troppo muoviti muoviti e se volete fare la parte degli STM iscrivetevi al canale attivate la campanellina e lasciate un mi piace a ogni video che vedete sempre se volete ciao